Dunque nel corso delle nostre innumerevoli presentazioni del realismo abbiamo detto che il realismo più che essere un movimento è una necessità estetica che si sviluppa in tutta Europa e che ha come paese guida la Francia. In Italia il realismo prenderà il nome di verismo e seguirà l'andamento che abbiamo già trovato in Francia, cioè il verismo italiano in chiave pittorica e scultoria non è altro che la versione artistica riguardante le arti figurative del movimento letterario, del verismo letterario di Verga e di Capuana. Questo verismo corrisponde al naturalismo e al verismo francese anche se si sviluppa in Italia con una ventina di anni di ritardo e con delle differenze fondamentali rispetto alle versioni francesi. Intanto non c'è quella potenza e quell'impegno sociale nella denuncia della condizione miserrima potremmo dire degli ultimi, cioè da un punto di vista politico questa spinta eversiva nel verismo italiano non la troviamo. Poi il verismo italiano conserva una varietà enorme di interpretazioni che dipendono dalla differenza delle scuole, delle tradizioni regionali che sono tipiche del territorio italiano e della storia dell'arte italiana. E poi c'è un elemento che corrompe potremmo dire il verismo italiano e che è l'aderenza a alcuni esempi del romanticismo internazionale dovute proprio al passaggio in alcune città di alcuni artisti del romanticismo. Mi riferisco a Gericò ma in particolare a Turner e poi successivamente a Corot che come vedremo lasceranno il segno soprattutto perché gli artisti del realismo italiano nella volontà di scollegarsi dal romanticismo italiano, un romanticismo storico considerato comunque attardato e provinciale, cercheranno di seguire anche la strada del romanticismo inglese e francese. Quindi le opere del realismo italiano avranno sempre un accento vagamente romantico. Tutte le scuole italiane cercheranno di dare una loro interpretazione del realismo. Noi partiamo da quella napoletana dove già negli anni 30 si era affermata appunto una tendenza, una scuola che si occupava di paesaggio proprio per il passaggio da Napoli, di Turner e poi di Corot e quindi noi vediamo nelle opere di Jacinto Gigante, che è il protagonista di questo momento, la fusione del paesaggio romantico e della sensibilità verista. Questo colore incandescente, fuso, bollente, tipico di Turner, la massa plastica invece tipica, sintetica, tipica di Corot e nello stesso tempo la volontà di rappresentare le scene, le figure, le ambientazioni con un forte realismo. E questa fusione di elementi sarà fondamentale per gli artisti che seguiranno questa scuola, aderente alla scuola di Posillipo, il più importante è sicuramente Filippo Palizzi, che si scollega subito però da queste tendenze così liriche del colore che vengono da Turner e comincia invece ad ambientare le sue figure, pur bellissime, queste fanciulle, lavoratrici, che in qualche modo ci distraggono con la loro bellezza dalla realtà di ciò che le circonda, che è una realtà assolutamente drammatica e poverissima, rappresentata con un realismo che deriva in gran parte dal rapporto che Filippo Palizzi continua a mantenere col fratello Giuseppe Palizzi, più grande di lui, anch'esso aderente in gioventù alla scuola di Posillipo, ma che poi negli anni 40, nel 44, si era trasferito in Francia, in particolare sul limitare della foresta di Fontainebleau, era entrato, diciamo, in quella congrega che abbiamo definito dei Barbizonie e quindi si era dedicato a una pittura di paesaggio non pittoresca ma assolutamente reale. Filippo Palizzi va più volte a trovare in Francia il fratello, ci va nel 55, ci torna nel 65, poi ci tornerà anche nel 95 quando Giuseppe è già morto, ma i contatti evidentemente con il realismo francese in questo momento sono contatti diretti. Ma nell'interpretazione di Filippo cos'è che allontana, diciamo, la pittura di Filippo Palizzi dal realismo francese? Fondamentalmente il crudo realismo che era tipico, diciamo così, di Courbet, per esempio, si stempera perché si stempera nella piena luce del mezzogiorno, del meridione d'Italia, che restituisce una sorta di bellezza intrinseca alla vita, seppure una vita misera, logora di questi personaggi, e poi una tendenza che collegherà sempre, comunque, questo artista a una certa vena romantica. La fanciulla che guarda all'orizzonte è una fanciulla del popolo, ha i piedi sporchi, è vestita più o meno di stracci, ma difficilmente potrebbe essere collegabile alla violenza espressiva di un Courbet, ma anche di omiglie nella sua nobilitazione delle figure dei lavoratori. Quello che è vero è che Palizzi si dedica alla pittura vera, cioè a rappresentare le cose così come le vede, proprio in collegamento con quello che era stato il fratello Giuseppe Palizzi, che proprio a Barbizon realizza i boschi, le foreste, le scene di genere, le contadine, ma le realizza sempre con questo tono dolce ed ulcorato, che sarà poi la caratteristica tipica del realismo italiano, non solo nel meridione o per quelli che si recano in Francia, Giuseppe passerà tutta la vita in Francia, morirà a Parigi, è sepolto al Père Lachaise, per cui è comunque una persona che raggiunge la sua notorietà in Francia, ma anche quelli che operano direttamente in Italia, Antonio Fontanesi a Torino, Antonio Fontanesi era di Reggio Emilia, si sposta a Torino per partecipare alla prima guerra di indipendenza come volontario, sottotenente volontario, dopodiché sarà costretto a scappare, evidentemente come tanti personaggi per motivi politici, scappa, ripara in Svizzera, dove ha l'opportunità di conoscere Alexander Calam, che è un paesaggista molto interessante, dove potrà da lì fare base per girare in mezzo a Europa, soprattutto in Francia e Inghilterra, conoscerà Corot, conoscerà Dobigny, potrà vedere direttamente le opere di Turner, di Constable, addirittura di Gainsborough, e l'unione, la fusione di tutti questi elementi spiega questa pittura così intima, così intimista ed evocativa, che però resta saldamente legata al dato reale, una pittura che ha una luce ancora completamente romantica, ma che si indaga in maniera chiara il dato naturale che gli deriva evidentemente dalla pittura di Barbizon. In questo senso può essere considerato l'ultimo romantico, ma comunque anche fortemente legata alla pittura del realismo, perché le sue figure sono figure del popolo che compiono atti veri, reali. In generale la pittura del realismo italiano ha questo limite, se possiamo definirlo un limite. Egisto Ferroni, qui siamo in Toscana, ma lo stesso possiamo dire nel paesaggio cittadino rappresentato da Giano Favretto, qui siamo a Venezia, ma queste figure ridono pur nella loro povertà, pur nel loro vestire di stracci, pur nella scelta di scorci per quello che riguarda Favretto di una Venezia assolutamente non pittoresca. Qui non c'è San Marco, non c'è Rialto, non c'è nemmeno la rappresentazione della vita borghese che era stata tipica di Pietro Longhi, ma queste figure stracciate di messa assolutamente povere non mostrano la sofferenza, mostrano la loro vita semplicemente senza desiderio di denuncia. Fa da contraltare a questo atteggiamento unico, diverso, diciamo, in Italia, l'abruzzese, unico non ce ne saranno altri, ma quello in assoluto e si avvicina di più alla pittura francese sarà l'abruzzese Teofilo Patini, un allievo di Filippo Palizzi, che tra l'altro è l'unico che raggiunge l'altezza, diciamo, da un punto di vista dell'impegno militante, l'altezza del realismo francese, ma è anche l'unico che in Francia non ci va e quindi non ha rapporti diretti con i francesi. In compenso è un massone, un socialista convinto e quindi fa della sua pittura un grimaldello per dire una serie di cose, soprattutto attraverso la cosiddetta filologia sociale, l'erede che è quello che vedete, bestie da Soma, vanga e latte, dove si vede l'estrema miseria, la potenza proprio della miseria, la capacità di resistenza della nobiltà da un certo punto di vista del popolo, dove si vedono anche dei legami abbastanza evidenti con la pittura francese che lui non conosce direttamente, gli occhi sbarrati dalla fatica, la disperazione di queste donne che si riposano stracciate con le vesti assolutamente distrutte dal lavoro, oppure in vanga e latte che spesso è stato messo, diciamo, in parallelo con l'Angelus de Mille, ma nell'Angelus de Mille il lavoro dei campi erano devitato e queste persone si sentivano sostenute dalla fede, qui non c'è nessun tipo di sostegno, qui c'è soltanto la rappresentazione dell'accettazione del destino di questi uomini, da padre a figlio, che è un destino di povertà, quindi persone che poco hanno, poco niente, e poco avranno. In questo con un collegamento abbastanza evidente con tutta la poetica, diciamo così, i fondamenti del verismo letterario, in particolare di verga, anche quando si rappresentano appunto figure del popolo che non stanno male, ma che mostrano proprio la fatica, diciamo, la vita vera di questi personaggi. Ma diciamo che in generale Teofilo Patini è l'unico che ha questa caratteristica in Italia, perché poi le figure rappresentate dagli altri artisti italiani di questo periodo, qui vi presento Antonio Mancini, che rappresenta questo piccolo pretino, con questa immediatezza di interpretazione pittorica eccezionale, dall'altra parte Vincenzo Gemito, e anche lui rappresenta con una qualità estrema un soggetto che viene dal popolo, il pescatorello, ma che ha un'eleganza intrinseca, divertita, che ci può far pensare, da un certo punto di vista, alla grande scultura ellenistica, anche da un punto di vista tecnico, una qualità fusoria impressionante. Perché comunque anche nella rappresentazione del popolo, degli scugnizi, della povera vita, dei bassi fondi cittadini, la pittura italiana prende questo tono un po' divertito, a volte estruggente e malinconico, abbiamo visto Fontanesi con tutte queste ambientazioni, queste penombre, questi tramonti, un po' così cervellotici, ma in ogni caso queste ambientazioni sono sempre condite da una leggerezza che distanzia fortemente dal verismo, dalla crudezza, del realismo di uno sola o di un corbet. Abbiamo esempi particolari di grande crudezza, Vincenzo Vela, le vittime del lavoro, qui in questo caso non c'è nessun canone di bellezza ideale, realismo è realismo diretto, assoluto, il brutto e il deforme diventano degli strumenti, la brutalità senza filtri è uno strumento per un racconto che sia più evidente e più chiaro, ma Vincenzo Vela, esattamente come Patini, rappresenta una sorta di unicum, una mosca bianca, perché in realtà la pittura italiana di questi anni tende a scivolare invece nel simbolismo. Noi qui abbiamo Domenico Morelli, pittore di grandissima qualità, che di realistico, di collegato al realismo, ha la forma. Sant'Antonio vestito da beduino nella sua caverna solitaria, con queste stuoie distrutte sulle quali dorme, ma c'è la dimensione del sogno, da sotto le stuoie fuoriescono queste donne così burrose, dalle carni bianche, latte, così indesiderabili. E quindi si scende, diciamo così, in una sorta di simbolismo, nel sogno, nel desiderio, che è la stessa cosa che poi vediamo nell'ultimo artista che vi presento, Francesco Paolo Michetti, apprezzatissimo, non per niente, non solo da Gabriele D'Annunzio, ma soprattutto da Giulio Aristide Sartorio, che vede quest'opera all'Esposizione Romana di Belle Arti del 1883 e ne parla come di un capolavoro, Giulio Aristide Sartorio sarà uno dei protagonisti del successivo simbolismo italiano, perché qui c'è una pittura di realtà assoluta che si stempera però nella magia, nel simbolo, che è tipico del folclore, del racconto del folclore religioso italiano. Gabriele D'Annunzio, dell'Italia del Meridione ovviamente, ancora oggi queste manifestazioni religiose hanno un chiedi così affascinante, quasi laico, quasi, potremmo dire quasi pagano, no? E Gabriele D'Annunzio sul Fanfulla della Domenica del 14 gennaio del 1883 descrive l'opera perché, in questo modo così sognante, perché descrive proprio l'evento, no? E dice l'impressione fu a Miglianico, cioè lui, il pittore vede questa scena a Miglianico alla festa di San Pantaleone, nella calura soffocante dell'estate dentro la chiesa, tra il lezzo bestiale che esalava da quei mucchi di corpi umani accalcati nella mezza ombra. Era una gregia, una mandra enorme d'uomini, di femmine, di fanciulli, entrata a forza per vedere il santo, per pregare il gran santo d'argento, per assistere al martirio dei devoti. E là, in mezzo ad un solcumano, fra pareti umane, tra quattro, cinque forze innati si avanzavano strisciando, con il ventre per terra, con la lingua sulla polvere dei mattoni, con le punte dei piedi rigide a sostenere il corpo. Si avanzavano così come in rettili, una superstizione cupa di Acehava. E quindi qui vediamo il realismo, la rappresentazione della realtà così com'è, che però diventa funzionale alla rappresentazione della superstizione. Quindi, diciamo, da un certo punto di vista abbiamo un altro simbolo, il realismo che serve a descrivere qualcosa di assolutamente irreale, innaturale, che si fa simbolo e che è tipico appunto di questa magia, di questo folklore locale della superstizione, dell'incoerenza della superstizione appunto del folklore religioso del meridione d'Italia. Ecco, il realismo italiano, il verismo italiano, avrà queste caratteristiche di leggerezza rispetto al realismo francese, a parte in due casi particolari che faremo nelle prossime due lezioni, cioè la scapigliatura lombarda, la pittura di macchia in Toscana, che hanno una loro coerenza interna, una loro potenza e una loro proposta, diciamo, originale che in qualche modo può stare al confronto anche degli eventi pittorici più avanzati che abbiamo studiato soprattutto in Francia. Grazie.